Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Gian Natasio. Sulla A1 in direzione Roma a causa di un incidente che ha coinvolto tre autovetture all'altezza del chilometro 317, due chilometri di coda tra Firenze Sud e Incisa e Reggello. In direzione Bologna per traffico intenso, rallentamenti tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico. Ci spostiamo sulla FIPILI, rallentamenti per traffico intenso tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Per lavori tra Firenze e Firenze Scandicci in direzione mare, restringimento di carreggiata. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori scambio di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la A1 di Firenze in Pruneta. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!